Rifiuti pericolosi e non stoccati senza protezioni per il terreno, mancato tracciamento dei rifiuti, smaltiti, stoccaggio e raccolta illecita di ceneri pesanti dei forni, polveri sottili prodotte dai sistemi di abbattimento, bossolame bonificato, imballaggi contaminati e più in generale una scarsa attenzione alle norme in materia di tutela dell'ambiente. Sono queste alcune delle accuse alla base dei nuovi sequestri presso la esplodenti Sabino per presunti reati ambientali. La procura di Vasto li ha chiesti ed ottenuti al termine di nuovi filoni di indagine a seguito dell'incidente dello scorso dicembre in cui hanno perso la vita tre operai della ditta di smaltimento materiale esplosivo di Casalbordino. Per il forum dell'acqua Abruzzo che ha presentato quattro esposti alla procura estoniense le indagini gettano ombre anche sull'operato di comitato via CTR Arta e prefettura di chiedi. Possibile che nessuno si sia accorto di nulla quando a noi sono bastate poche ore di analisi delle foto aeree per scoprire questioni molto critiche a nostro avviso. Servono risposte e ovviamente chiediamo che il sito sia sottoposto a piano di caratterizzazione per escludere eventuali contaminazioni di suolo e acque. Poco più di una settimana fa i lavoratori della esplodenti Sabino oggi in cassa integrazione avevano promosso un sit-in sia davanti ai cancelli della fabbrica che al tribunale di Vasto chiedendo il dissequestro di almeno una parte del sito produttivo per consentire il ritorno al lavoro. Il procuratore capo Giampiero Di Florio nell'incontro con la rappresentanza sindacale aveva però detto loro che il dissequestro sarebbe stato possibile solo in condizioni di sicurezza che a questo punto non riguardano soltanto l'incolumità dei lavoratori ma anche quella dell'ambiente.